Che cosa ti ha aiutato di più in questo percorso? Noi ci siamo conosciuti a maggio dell'anno scorso all'evento con Jordan Belfort e sono stati quattro giorni di formazione che mi hanno aiutato e mi hanno aperto la mente molto su come gestire determinate vendite e penso che i primi sei mesi da quel momento io mi sono focalizzato in alcuni incontri che abbiamo fatto anche insieme soprattutto nel migliorare il tasso di chiusura, aggiungere qualche tecnica nello script che tuttora applico e tuttora mi diverto ad applicare diciamo quindi suggerimenti direttamente da te per esempio quello del sparargli un prezzo dieci volte alto prima di dirgli prezzi effettivi tipo dai che andiamo alla parte in cui ti chiedo ventimila dollari per il servizio che uno si spaventa, quello mi piace un sacco quello lì è potentissimo si chiama uccidere la speranza io lo chiamo e quella roba lì è molto potente perché uno rimane così scioccato gli hai fatto un ancoraggio del prezzo poi non sarà mai quello ma magari è il 90% in meno corretto, esatto poi diciamo che negli ultimi 3-4 mesi a questa parte la tecnica di vendita ormai era solida il problema era generare più clienti contatti partiamo ci vedremo anche questa parte qua esatto, cosa a cui sono arrivato proprio in questo mese perché arrivo da un ciclo di vendita cioè quando io promuovo diciamo più intensamente il mio servizio di educazione finanziaria solitamente questi cicli generano un 15-18 contatti da cui poi c'è una certa chiusura al mese o al settimana? no al mese, al mese per ora perché io fino a 20 giorni fa avevo ancora il mio lavoro a tempo pieno in Germania in consulenza quindi adesso un pochino più di tempo questo ciclo cioè da settimana scorsa a oggi ha generato 55 persone che sono ancora finendo però molto probabilmente arrivo a fare un mese da 50.000 come vendite totali però, e un anno fa quanto facevi? sui 10 questi cazzi, 500 per sì mi piacciono questi dati? la cosa appunto interessante è che adesso il problema è diventato non riesco più a gestirli quindi cambia la visione è più la questione di aggiustare il team però ho trovato quel metodo che dico so che è prevedibile quindi niente, molto contento adesso la mia visione cambia tutto sul aggiustare il team l'editorio mi è stupito pensavo che avessi raddoppiato cazzo la cosa bella è che il costo per questi 50.000 è di 2.500 euro cioè quindi è un margine di 95% quindi eh sì perché tu hai una volta hai l'acquisizione del contatto quanto ce l'hai? quanto ti costa un contatto? io non faccio nessuno è solo organico ah fai anche tu organico? è solo organico io sono un fan dell'organico ho fatto un minimo di promozioni adesso ma in una maniera molto indiretta che magari poi racconto però però sai qual è la cosa bella? che adesso hai tutto il processo sotto controllo acquisizione contatti, sistema di vendita e script e quindi puoi creare la tua sales academy dove ti registri e dopo gli dai in pasto i video ai tuoi venditori ed è facilissimo esatto cioè la cosa più difficile è arrivare dove sei arrivato tu devi semplicemente trovare gente motivata che abbia voglia di fare e che anche lì che l'ha proprio è un tassello esatto però se uno guadagna insomma solitamente non non si lamenta non è difficile trovare gente bene Vittorio grazie gentilissimo grazie a tutti grazie a tutti